Ciao a tutti Sì ragazzi, benvenuti a questo primo video della serie di Minecraft Naufraghi Io sono FabiJ e qui con me c'è... Il solito Ipuffo Per questa serie di Minecraft che durerà 4 episodi ci saremo io e Ipuffo soltanto appunto Allora ragazzi, vediamo di introdurvi innanzitutto Aspetta, volevo prima dire una cosa Sì Voi siete fottutamente fantastici Cioè, abbiamo appena fatto il video dei 1000 E mo' ci tocca fare il video dei 2000 Dei 2000 iscritti, ringraziamento Sì, quasi dei 3000 Cioè, quasi, vabbè, relativamente quasi Però siamo a 2005, penso 2006 quando uscirà questo video E... Bo' Siete fantastici Vabbè ragazzi Vai, continua Ringraziamo veramente tantissimo il Capobastone per averci sponsorizzato E veramente grazie di tutto Speriamo veramente che vinca il migliore E che partecipiate in tanti Speriamo che vi divertiate soprattutto E quello è l'importante Poi non vi preoccupate che questo non sarà il primo concorso Ma ce ne saranno sicuramente altri in futuro Non soltanto tra tanti di Minecraft Ma anche, che ne so, di pacchetti mappe Mother Warfare, ad esempio Sì Allora Quindi in questo video vedrete la prima parola chiave Che apparirà più avanti Quindi, carta e penna Allora ragazzi, inizio a condurvi un po' la serie Perché abbiamo poco tempo comunque Perché Minecraft di solito porta via moltissimo tempo nei video E vi spiego subito Avete sicuramente già notato che siamo sperduti in mezzo all'oceano L'avete visto? Cos'è? Allora, questa serie qua si chiama Naufraghi Ovvero non abbiamo Siamo dei Naufraghi Non abbiamo Alcun Cioè, non abbiamo Non stiamo sulla terra ferma Tranne questo pezzettino di terra che vedete E quindi non ci sono animali E non ci sono neanche mostri di notte Quindi qua non ci sono mostri di notte E quindi questo qua porta due cose E comporta dei pro e dei contro I pro che chiaramente anche di notte possiamo gironzolare qui Come dei deficienti e non ci sono zombie Ma i contro ci sono anche perché In pratica non essendoci zombie Non ci sono neanche animali E quindi non possiamo avere cibo E non possiamo avere, diciamo, delle pecore per fare il letto Quindi le notti ce le dobbiamo passare magari in miniera In miniera Possiamo alimentarci soltanto grazie al pane Fornito dal grano e dalla pesca Infatti in questa cosa qua Cercheremo innanzitutto di prendere Una canale a pesca Per pescare qualcosa, diciamo Ecco, là c'è il pane Ancora ci siamo fatti una piccola dimora Veramente piccolissimo Perché comunque se notate Non ci sono alberi Ma ce n'era uno soltanto Che abbiamo abbattuto Abbiamo ricavato i semi E veramente ragazzi In questa serie Ogni cosa Ogni risorsa che troveremo Ce la dovremmo tenere stretta Perché è tutto molto Molto difficile da trovare Se vi chiedete che cos'è quel cubo lì È lo spawn point Così giusto per chiedervi Allora ragazzi Direi subito di iniziare Ah, ribadiamo il fatto che siamo in live Perché la nostra serie sarà tutta in live E niente L'ultima cosa che volevo dire È che dato che siete così tanti a partecipare E comunque spero vi divertiate Perché noi il concorso l'abbiamo fatto apposta Per farvi seguire la serie Per farci conoscere Ci teniamo a dire Che noi non siamo un canale Che fa solo video di Minecraft Ma facciamo anche video di altri giochi Tipo Call of Duty Specialmente Call of Duty Battlefield E altri videogiochi Quindi Infatti era questo Il più grande timore nostro Che se è finito il concorso Diventevate inattivi Noi speriamo che rimarriate attivi Non soltanto perché ci saranno altri concorsi in futuro Ma perché vi piacciono il canale E niente È un'occasione per farci conoscere Speriamo davvero che rimaniate attivi Dai ragazzi Iniziamo con questa serie Come stiamo messi a risorse Luca? Bene bene Ah un'altra cosa Se notate che la skin La skin pack La texture pack è nuova C'è una texture pack Che non è quella normale di Minecraft Ma se la volete scaricare La trovate in descrizione Si chiama Mixcraft HD Ed è compatibile con la 1.8 anche Guardate che bello Guardate che bello Mota la gaggia perché lui può tenerla Io no perché c'è un computer di merda Vabbè Allora ragazzi Diciamo che sto morendo Minchia io c'ho due bistecche Andiamo sotto Oddio Ok allora ragazzi abbiamo iniziato A scavare Prendi qualcosa però Tipo la spada ce l'ho Ah certo A scavare questo buchetto Ma veramente piccolo Che poi amplieremo Eh aspetta Aspettate che non aumenterà Ah al massimo Ok Minosità Ehm Vorremmo andare Dobbiamo andare lì sotto Uccidere qualcuno Carne di zombie Dobbiamo trovare una cesta Dobbiamo trovare Un dungeon Innanzitutto una caverna nascosta Perché minchia Possibile Abbiamo fatto queste scalacchiocce Alla stiamo seguendo questo percorso Abbastanza Anche perché vi Uh grotta 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 Incredibile Sì già Ma che cazzo Oddio No sono anche caduto Ma fa che gara Minchia No le torce ho dimenticato Ce l'hai non vedo nulla Eh vado a prendere il carbone È importantissimo L'avere le torce Ah ce l'ho io il carbone Ragazzi non so se vedete Forse schiarirò il video Oddio Chi è Ma quant'è alto Mi ricordo Ho sentito Ho sentito Ho paura Non c'è Non c'abbiamo carbone Però ce l'abbiamo Come che si chiama quello di capobastone Che ha fatto gli zombie Montesi Montesi Ma è stupendo Chiaramente Metteremo anche il suo canale In descrizione Perché è un grande Cioè Se che poi basta ne farà uscire La texture pack Ha detto che uscirà comunque Sì è appena finito Ha ultimato Sì Minecraft ultimato Però se la farà Oh luce Se la farà uscire Prima La useremo nei commenti Perché è stupendo È epica Allora Ho preso un po' di carbone 19 però Te lo do te? Sì da nome a me Allora tieni Mi fa un po' di luce Oddio ferro Aspetti Dò un po' di Tieni Enderman Zombie Aiuto Troppa roba Oddio Non me lo lanciare Ok Mangiati con la bisecca Perché mi ha dato un croissant Non è un croissant Pieti Pieti Grazie C'è un Enderman Non lo guardare No Ho paura No lo guarda No non lo guarda Ciao Enderman Allora La cosa più importante Per adesso È trovare delle ossa E attenzione Fabi J Si fa strada Trova un Enderman Incredibile Incredibile Ender Pearl Inutile Però Facile averlo Comunque Sì Li Enderman Non sono stati rifatti In questa texture Perché una texture Non è nuovissima Oddio Mi è crollato Tutto minecraft addosso Tutto Ma C'è da la lava Ma dove sei sparito Allora Dobbiamo trovare Delle ossa Principalmente Per il fatto Che con quelle Tu dove sei sparito Qua c'era C'era una porta qua E vabbè Passo di qua Dai E qua E qua Lory Girati Lory Sparito Favij 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 Vabbè Non importa Dove sei Non importa Ci riprendi Io t'ho visto Sono dove sei Allora Oddio Uno scheletro C'è uno scheletro Ok Perfetto Favij No 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 Mi sta uccidendo Ho ucciso L'ho ucciso Ho preso E' già sparito Adesso arrivo Ero occupato Contro Sento dei crib Vabbè Già la va Eh niente Sì Ah ecco Ti è tratto di male Eccolo lì Hai puffo Allora Dobbiamo trovare Disperatamente Dei ragni Prima di Risalire Dispera Ho sentito Un psst C'è no Di verso dei ragni Che non so imitare Eccolo Senti No Oro Oro Aia Aia Mi ha beccato Oddio Sto per crepare No ti prego Mi ha dato Eccomi Eccomi Dove è finito Perché quando ti trovo Ti perdo Non lo so Comunque ragazzi Oh madonna Uno scheletro Ha fatto un 360 Al volo Incredibile No ma Io ho paura Di schiattare qui Ho disperatamente Bisogno di Un ragno Vieni a darmi la mano Ti prego Perché mi sto Ah eccoti Sento il ragno Anch'io No Che è successo E' un creeper Mamma mia No c'è un teschio Uccidimelo Io c'ho due Due cuori Va bene Nel caso comunque Potrei tornare Ok Allora Ricapitoliamo Abbiamo del carbone Che è utilissimo Perché non abbiamo nulla Non abbiamo il cibo E poi abbiamo Il metallo Perfetto E però ci manca Ci manca comunque La ragnatela E che continua a sentire Anch'io Ah No Sono morto Io sono morto Sicuramente adesso Là c'è un bordello di gente Persone vive Non sono morto Però mi sa che morirò presto Perché oramai Ok C'è dell'oro E c'è qualcuno Che mi lancia frecce Oddio Che cecchino Sembrano franche stai Mi ha fatto un quickscope Devi distrarmi un teschio Perché non ce la farò mai Vabbè ci provo Ho gioco fuoco di copertura Si fuoco di copertura Temelk Temelk E' frisato A presto Grazie a tutti